Buongiorno, sono Andrea Gascon, country manager per RSG e Roll Assistant Group Italy, nonché responsabile prodotti. Al Pro Light & Sound presentiamo alcune novità, soprattutto legate ai nuovi software, un nuovo software dell'M480 che offre nuove possibilità con nuovi effetti, 24 DCA, un miglioramento della gestione dei delay, dei ingressi e delle uscite, soprattutto per l'integrazione insieme al video, le transizioni tra le scene e alcuni altri dettagli dell'aggiornamento dell'M480. L'impronta di quest'anno è molto legata all'integrazione audio e video e allo streaming e alla comunicazione che lo streaming genera. Infatti tra la parte dell'audio e la sezione video il ponte comune è dato dallo streaming che stiamo già attualmente facendo live sulla nostra pagina di live stream, sulla nostra pagina Facebook e il nostro sito internet. Il nostro stand è organizzato in maniera comunicativa partendo dall'area di training che anticipa la nostra attività di training tour che noi stiamo portando avanti in tutti i paesi, in tutto il mondo, compresa l'Italia, 5 o 6 regioni in tutta l'Italia. La share e via experience che è un'attività che coinvolge l'esperienza della tecnologia, l'esperienza degli utenti finali insieme allo streaming. Quindi un modo di promuovere ciascuna realtà, ciascuna identità, le necessità di ognuno di noi e anche le soluzioni, soprattutto le soluzioni che l'RSG può offrire al proprio cliente e al proprio utilizzatore. Nella parte di comunicazione diretta per quanto riguarda i prodotti, con i prodotti in esposizione e come sempre in uso live, come una band a dimostrazione delle macchine e del loro uso pratico, più verso una parte di comunicazione diretta con gli utenti finali, con la clientela e con i nostri interlocutori preferenziali che è la lounge area.